Eris qualifica per la finale del campionato italiano Secondo classificato Francesco Sanamo E il nostro vincitore della prima tappa qua a Milano E il vostro vincitore della prima tappa qua a Milano E il vostro vincitore della prima tappa qua a Milano Discorso! Porto Atalanta! Porto Atalanta! C'è Juve! Allora, i primi tre! I primi tre! La mia grande lì! Perdo il tifoso del Lidro! Cos'è? Presidente, volevi dire due cose... Si può! Quando vai! Allora... Allora...